Buona domenica, che l'amore, la pazza e la fede dal Signore entri in vostre chiasi, tra i vostri corsi e i caristi, perché è come la festa del Signore, importantissima. Luca, in che volta Gesù ha detto ai discepoli, così ha scritto, il Cristo al scugnive patì e la tiarce di risuscita dai morti. Dal sonno si predicherà a tutti i popoli la conversione e il perdonare dei peccati. «Vuatris, o sareste testimoni di tutto questo, scominciando di Gerusalemme. E vede che io mandarei, sore di vuatris, quel che il Parigno ha imprometto, il Spirito Santo. Vuatris, però, restate in città, fintre mai che non sareste riviestuti di una forza che vende ad alta. Poi, io ho amenazzo fuori dei bandi di Betania e al sant'lismans io ho benedìs. Intanto che io benedìvi, si è distaccato di loro e al venire portato su in Cil. E loro, dopo di velo adorato, sono tornati a Gerusalemme con grande contentezza e erano sempre in tali templi a laudare e ringraziare Dio». Sì che chi si racconta senza, ha fatto svolti dai appunti e gli ho detto che un momentino prima che vada su in Cil, le domande, gli appunti, se è arrivato il momento che l'implante del sole ha, no? Che vede di liberare dei romanzi con loro, il Messia, tu capite? Ecco allora che chi urdìs che Cristo scugniva e patì e la terza dì risuscitata in me, tanta Dio non so che il Messia è così spietato ai suoi altri, benedetto. E chi al sarebbe di domandarsi, no, covinta il chiave che il Dio che l'ha di fa c'è che non scomode a noi, c'è che se con noi alvare di fa, perché coviene il Dio inventato il chiave. Lui ha il Dio rivelato che invece di liberare dei romanzi, invece di liberare dal mal, invece di liberare dal mal, ha il Dio che non ha, perché capisce, ha passato tutte queste nostre vite, fino alla morte e dopo alle risuscità. Di modo che ha il Dio rivelato che il Dio che ha il Dio sempre, anche dal mal, senza Giavanus. E tal se non si predichiarà a tutti i popoli, biele anche queste, non è il vostro Dio che dà per voi altri, a tutti i popoli, ecco, ha il Dio il nostro che ha di tutti, ha preferenze, in particolare per i puoi, poi poi disgraziarsi, ma nessuno lo può sequestrare, né Dio né la Madonna per se stesso o per la sua parte. Capito? E vuoi altri so sarei testimoni di tutto questo, bene, che ha fatto tenerezza il Signore. E non hanno capito noi, e di cui, alleluia, vuoi altri so sarei testimoni di tutto questo. E si cominciano di Gerusalemme, che è la centrale religiosa, di conseguenza, si cominciano di Gerusalemme, lo dice, con noi, affrontare la persecuzione, ecco, dai homes religiosi ebraici. Ecco, per cercare il discorso, pensate che vi mandarei solo di voi altri, il Spirito Santo. Biel, che il Signore, che non ha prontato di farlo di lui, io mi immagino che è arrivato là su, si è sentato lì, sulla Trinità, e ha detto al Spirito Santo, quando hai fatto ciò che hai potuto, come vai a ottobre, ha finito di farlo. Ecco, altri genitori, per esempio, che ho fatto la fiducia che ho potuto per i figli, dopo ho visto la fiducia che qualcuno di altri, in particolare, se io ho visto battuto, ecco, che il padre che ha il cielo, qualcuno di altri ha visto di continuare e rifinire ciò che altri hanno staccato. E Biel, che io benedive, al dispense, non si benedisce anche noi, intanto che non si manda a fare dei testimoni a lui, ma là su, talcì, benedigno, il Signore che non è sul bene sempre, anche se capisce poco, anche se si impuere in, ecco, e alle parche che come ho vinto di prealu, ma con tutto il cuore, perché la fiesta del senso è grande ognone, e io, a par di Nadale e di Pasqua, la fiesta del senso, preghi insieme, tal non dal Padre, dal Fì e dal Spirito Santo. Amen. Signor del senso, che tu sei sparito dal nostro immo di essi, per sparnizzarti da perduti in Cile e in tiare, per essi presenti le persone e le tue situazioni, per essi vivere in noi e in tutte le nostre giornate. Tutto i dasi il savor dal Cile a queste nostre tiare e a queste nostre storie, perché non ti sentini donie, simpri, da perduti. Tutto porti scontella sotto al Cile queste nostre tiare, queste nostre storie, per viagginus ne puarte sul nostro avivino, che si palese come una strada plena di luce, che vince ogni scur, una strada che non smene là che il nostro cura il brame, perché che ho sempre partito di là, per vivi sulla tiare, ma con la nostalgie di là, ci rint bielecce, grandecce, eternità e amore. Ed ome là che il nostro cura il poderà polsare, in planci di te, che tu sei docce che non ho brame. E se tu tu hai avuto tanto gusto di fatti omb, no ho vinto tanto gusto che mai, di esse Dio. E tu, signor de sense, tu sei la nostra strada. Amen. Lui ha la nostra strada, che si viaggia sul nostro avivino, ha l'importante. Nuestra strada, in tal senso, di sabedula che ho l'arim, perché lui ha il primo tocco di tiare, che è arrivato al finale, diciamo, no? Perché ha venuto più col corpo, ma ha venuto senza corpo, ha l'occhio passato da Madonna, il corpo, e dopo ha venuto con il corpo. Dimut che vantri, se può svegliere, il suo, che ha il nostro destino, ha venuto a Dinosal, o si vigno dal cielo, o passano la vita, e lui l'ha passato, dedotto e dotto e dotto, di morire, e in una forma vergognosa, addirittura, ma l'ha risuscitato, ecco, qual è il nostro destino. A lui, non si svele, cui cos'è, vignuti di Dio, per arrivare a lui. Però, ha detto, e altri, se sarebbero miei testimoni, è un mystico, dal 1004, ha detto, questi, potrebbero, per tirarsi d'oggi, e gli uomini di Dio. Non, o sin l'unico evangelio, che gli uomini di Dio, ha detto in lei, o sin la presenza di lui, in peraulis, e in oparis. Sì che, lui, non si lo vio, ma può inviare di noi, no, insieme con lui. E allora, il destino dei cristiani, dall'essi, d'hommes e uomini, a lasciarsi, illuminar, da sua presenza, dal suo esempio, perché così non destinar, magari così, la strada è sempre che di croce, dall'impegno, ecco, e dal rinunzare a noi stessi, per far contendere gli altri. Questa è la strada, per essere noi stessi veramente. E come ho, ho voglio definire, con questo tocco, di sequenze aquileese, di sensi, perché aquilei, sono stati preati, di tantissime sequenze, dal messaggio romano di Dio, che è di Pasqua, e che è di Pentecoste, che andeva un'eottantina, tal messala, qui lei è, po' ben, i nostri vecchi, appreavano con questi sperauli, e il Dio dei Sintze. compagni, la vittoria del Re, con la nostra laurea, dal Cil, ha dismontato, into un grim virginale, e di lì, dal gran mar, dal mondo. dopo di aver navigato, tutta con la sua potenza, ha dato l'assalto al scuro tremendo, e ha arrivato fuori di lì, una grande schiria di Int, e con il suo sflandure, all'illumina il mondo. Voi, infine, ha fatto il salto, poi grans, volando, per sempre, sore dai noi, dal Cil, e ha fatto entrare con lui, i corpi, dai mortai. sopplicchiamo, il Signore Nessere, glorioso, perché degli estri dal Pari, là che l'ha sentato, nos mandi il Spirito Santo, perché siedi sempre con noi, fin, ai fin del mondo. Allora, qual può dire lì essi, il mio augurio, che di diventare sempre più lui. Mi diano proprio del Spirito Santo, che lo celebraremo con noi in corte, che il Spirito Santo, che lei sta sempre dentro di noi, tenendo amènes, e che noi siude, a Gesù, lui, perché noi, o siamo, non come i gli attus, che nascevano dopo di sé, in se vederli, noi siamo figli di Dio, noi siamo nascati di lui in persone, e in questo mondo, o devono essere sempre lui, in luminanza di lui, davanti al mondo, per farlo vedere, perché come noi, non ci sono, voi, o sei i miei testimoni. C'è gusto, però. Buone domenie, mandi. Buone domenie, buone domenie, a presto, a presto, a presto. Grazie a tutti.